Salve a tutti. Nello scorso episodio abbiamo assistito alla sconfitta fuori casa dell'MSP, che complice qualche errore di troppo non è riuscita a trovare la vittoria contro i padroni di casa, che invece si sono distinti per gli insulti nei confronti delle assistenti di gara. Un episodio che non è certo passato inosservato. Riuscirà l'MSP a ritrovare il cammino giusto per l'ambita salvezza? Scopriamolo. Grazie a tutti. E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto in questo nuovissimo episodio dell'MSP. Signori, siamo purtroppo reduci dalla scorsa settimana, da veramente un brutto capitolo per il calcio, ovvero insulti molto 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 brutti nei confronti della terna arbitrale donna, che in realtà erano due, quindi la guardanine e l'arbitro di riferimento donna. Però nonostante ciò non si sono risparmiati perché, come avete potuto vedere, ci sono dati giù pesanti. Detto questo, signori, oggi episodio di fuoco, oggi partita importantissima perché dopo una sconfitta immeritata su certi aspetti, fuori casa, giocata a Ferrara, questa settimana andiamo ad affrontare il Consandolo, avversario importante per la classifica e per i punti e per la squadra, per arrivare a quota salvezza, signori, perché nulla ancora è detto, è matematico, però se riusciamo ad incanalare un buon periodo positivo da qua in avanti, forse riusciremo a raggiungere la salvezza, signori. Detto questo, signori, stiamo andando a questa grandissima partita in casa per noi dell'MSP, speriamo bene per noi, mi raccomando ragazzi, forse sempre MSP, ci vediamo direttamente per il discorso del mister e poi per questa splendida giornata di campionato. Let's go! La prossima cosa, sul caldo, bisogna essere intelligenti nei tempi morti, ok? Nell'andare a recuperare, quindi sulle palli in attività cerchiamo di essere furbi nel andare a recuperare energie, anche sui tempi di gioco della partita. La partita sarà abbastanza veloce, poi da vedere se si riesce a tenere i ritmi per tutti i 95-96 minuti. Poi, quando l'arbitro fischia, dopo bisogna pensare solo a far bene le cose durante la partita, senza pensare al discorso della classifica o di altre cose. Siamo ragazzi, iniziamo, dai! MSP con Sandolo, partita fondamentale per riuscire a mantenere la categoria in promozione per il nostro MSP. Siamo agli sgoccioli di questo campionato e questa sfida sarà fondamentale appunto per mantenere la categoria. MSP ancora orfana del nostro Off Samuel, che probabilmente tornerà a giocare l'anno prossimo. Un saluto dal vostro Pippegone e comincia qui la sfida tra MSP e con Sandolo. Pallone recuperato da Bartolini che si invola sull'auto di sinistra. Bartolini, lo scarico dietro, parte il tiro che però, probabilmente deviato, finisce anche sul fondo. Oggi abbiamo un'inquadratura un po' particolare, parte il calcio d'angolo, il cross all'interno dell'area di rigore, non la prende nessuno, poi rimette dentro e ancora Luca Goyormella! È sempre lui! Meravigliosamente lui! Luca Goyormella, il bomber della MSP. Porta in vantaggio su questo calcio d'angolo, il cross e poi il tap-in di testa in anticipo sul portiere. Siamo quindi al decimo minuto e la MSP è già in vantaggio, 1-0. Qui con un pallone filtrante ancora di Bartolini. Fa buon lavoro la retroguardia del Consandolo. Imposta da dietro il Consandolo. Oggi inquadrature all'interno del campo praticamente, senza drone. La rimessa laterale, la chiusura da parte della difesa dell'MSP, poi cerca il filtrante, ancora una chiusura un po' difficoltosa, ma comunque efficace. Prova il Consandolo a cercare il pareggio con questa serie di rimesse laterale e calci piazzati. Parte il calcio d'angolo da parte del numero 10, il cross dentro, Simone Pechini. Come al solito fa guardia all'interno dell'area. Il rinvio di Simone Pechini. Il colpo di testa dell'attacco dell'MSP. Ancora Goyormella che recupera palla, 1-2 con Liciardo. Ancora Goyormella, Goyormella, Goyormella. Luca! Goyormella! La doppietta del nostro bomber numero 10. Bellissimo l'1-2. Si infila all'interno della difesa che perde un rimpallo. Ma Luca è veramente un caterpillar davanti al portiere. Non sbaglia. 2-0 al 26esimo. La doppietta di Luca Goyormella. Un tunesimo lancio lungo del Consandolo che ancora non ha trovato un'azione di gioco. Poi parte il tiro da parte del numero 5. Il pallone che finisce ampiamente sul fondo. Letro passaggio. Giro palla per il Consandolo. Il rinvio sbagliato. Rischiosissimo. Recupera palla Luca Goyormella. Parte il tiro e la parata del portiere. Attenzione. Si rischia l'imbarcata qui. 36esimo. Calcio d'angolo. Parte il cross. All'interno dell'area di rigore. Colpo di testa e la rete! La rete dell'MSP! E anche il tempo di... Annunciare il numero 3 che segna... Questa fantastica rete esulta in telecamere. Un ottimo colpo di testa su calcio d'angolo. Il portiere che non ci può far nulla. 39esimo. 3-0 MSP. Finora non c'è stata partita. Probabilmente gli stimoli sono completamente diversi. qui una chiusura ottima all'interno dell'area di rigore dell'MSP e fa partire il contropiede dell'MSP stesso. Buona la chiusura da parte del terzino del consambolo. Adesso siamo al 44esimo. Il rilancio lungo per Luca Goyormella. La sponda. Verso Bartolino. Ma il pallone che viene recuperato. E poi c'è un calcio di punizione ancora per il consambolo. Che però sì effettivamente in questo primo tempo ha mostrato veramente poco. Adesso recupera palla ancora l'MSP con l'Iciardo. Il retropassaggio verso il terzino dell'MSP che avanza. Tiene dentro il campo. Cerca spazio. Non lo trova. Qui anche lui Goyormella al colpo di tacco. Molto bello. L'1-2 ancora goloso. Potrebbe ridarla a Goyormella e così è. Il nostro numero 10 sul mancino. Parte il cross sul secondo palo. La sponda di testa di Bartolini. Fuori gioco però. Il direttore. Fischia. L'assistente alza la bandierina. 45esimo. L'arbitro decide di fischiare con qualche secondo d'anticipo. La fine del primo tempo. Dominio MSP. Con la doppietta del bomber Luca Goyormella. 3-0. Vediamo il secondo tempo. Cosa ci dirà. Fine primo tempo ragazzi. Oggi cameraman. E riprese di alta qualità. Perché come avete potuto vedere. Purtroppo si manca il drone. Perché l'abbiamo sfasciato durante un allenamento. e quindi adesso è in riparazione. Il bomber oggi ragazzi. E non è ancora finita. E non è ancora finita. Da qua ci vede veramente bene la partita. E si è visto bene i tre gol. Siamo partiti veramente forti. E bene soprattutto. Goyormella oggi ragazzi. Ma non solo oggi. È un ultimo periodo dove si è ritrovato. Io mi gioco 50 euro che prendiamo gol. E io mi gioco altri 50 che Goyormella fa il terzo gol. Che Goyormella fa il terzo gol. Vediamo alla fine. Chi avrà portato a casa la scommessa delle 50 euro. Detto questo signori. Andiamoci a godere un grandissimo secondo tempo. E ci vediamo per la fine della partita. Let's go. Parte dunque il secondo tempo. Siamo al cinquantesimo. Avanza il consandolo. Cerca un giro palla al limite dell'area di rigore. Però recupera il pallone. E parte il contropiede. Attenzione MSP. Avanza il numero tre. Il numero cinque. Parte il tiro cross sul secondo palo. Occasione sprecata. Un contropiede. Praticamente un cost to cost. Si poteva fare qualcosina di più. Diciamo che anche dall'immagine era difficile capire. Se poteva attaccare o meno direttamente la porta. Si è allargato. È andato sull'esterno. Un numero cinque. Il capitano. Abbiamo fatto i ribatti tra il centrocampo del consandolo e dell'MSP. Ma poi recupera con grande passo il neo entrato. Il numero sedici. L'assist per il nostro Goyormella. Parte il tiro. Bellissimo. L'inquadratura anche da dietro. Fa apprezzare la parabola. Veramente fuori di pochissimo. Mancino di Luca veramente delizioso. Poi parte il cross del consandolo. Buonissima. La chiusura e la rimessa laterale. Proprio per quest'ultimo. Il cross con le mani praticamente parte. Il colpo di testa e la rete. Il 3-1. Attenzione. Accorcia le distanze il consandolo. Una rimessa laterale che è praticamente stato un calcio d'angolo. Il colpo di testa all'interno dell'area di rigore che si insacca sul secondo palo. Rivediamo il replay. Secondo me Simone Pechini un po' in ritardo. Piuttosto raro prendere gol da rimessa laterale colpo di testa. Difesa qua che si è ampiamente distratta. Ancora il consandolo che è all'interno dell'area di rigore. Non si deve distrarre ulteriormente il nostro MSP. Esce Simone Pechini. Questa volta acchiappa il pallone. Settantasettesimo. Consandolo che prova a rientrare in partita nuovamente. Sempre 3-1 con il numero 9 in sfondamento. La chiusura da parte della difesa. Poi il numero 7 per la corrente. Il cross. Il numero 11. Simone Pechini in questo momento fa buona guardia. Invece nulla di fatto per l'attacco del consandolo. Ancora ho parola a crossare l'MSP che però cerca di mantenere comunque le redini del gioco. 85esimo. 3-1. Questi punti sono fondamentali per il nostro MSP. Un po' distratto questo secondo tempo. Solo un tiro di Luca Goyormella ma nulla più. Il rilancio ancora da parte del consandolo. Novantesimo. Manca veramente pochissimo. Ancora buona guardia la retroguardia. dell'MSP ma si combatte. Batti e ribatti e parte il contropiede. Sui piedi del capitano. Giustamente non vuole affondare il colpo. Cerca di mantenere il possesso. Mancano pochissimi secondi al termine della partita. Qui l'autore del terzo gol. Il numero 3. Non ci pensa due volte. Rilancia lungo ma il pallone finisce fuori. Consandolo. In fase offensiva. Attenzione. E non c'è più tempo. MSP porta a casa la vittoria. Per 3-1. La doppietta di Luca Goyormella. E la rete in area di rigore del numero 3. con un colpo di testa prelibato. Accorce le distanze nel secondo tempo. Il consandolo. Ma non basta. 3 punti fondamentali. Per l'MSP. Signori. Signori. Si è conclusa qua. Mamma mia. Che partita. Allora. Oggi. Bene. Bene. Doppietta. Quanti gol sei? 13. 13 gol. E il DS caccia. E il DS caccia. Allora. Fate una media di 100 euro. A gol. 100 euro a gol. 200. 200 a gol. Fate voi una media di quanti soldi si porta a casa a Goyo questa stagione. Visto anche il periodo per noi è molto brutto. Perché avevamo tantissime assenze. Peccato per il gol. Peccato. Peccato per il gol. Che poteva diciamo delineare una vittoria netta. Detto questo signori ragazzi adesso posizione classifica molto delicata perché riusciamo a respirare un pochino di più però non troppo. Mancano sempre poche partite. Mancano cinque. Cinque partite alla fine di questa stagione. Mi raccomando fatemi sapere come avete visto questa partita. Lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video in un altro grande episodio del MSQ. Forza MSP. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Let's go. Iscrivetevi al canale perché se vi iscrivete Goyo apre OnlyFans. Per la gioia della sua ragazza.